Carlo e Dario, ambassador per Vella Professional per Marilyn, la sfilata cosa ha previsto per quanto riguarda l'hairstyle? Ha previsto dei look abbastanza lineari, semplici, hanno richiesto proprio un liscio netto, però con capelli in fondo pieni di materia, inteso proprio con movimento quasi fluttuante. Abbiamo strutturato i capelli proprio per far sì che anche in catwalk dessero un'impressione di un capello molto corposo, ma allo stesso tempo molto naturale, quindi nei capelli molto lunghi abbiamo fatto in modo che avvolgessero un po' il corpo e le spalle nella parte frontale, mentre nei capelli più corti ovviamente il movimento doveva rivolgersi più verso la parte posteriore. Ecco, quali sono le tendenze allora che avete suggerito per questa prossima stagione autuniverna? Diciamo che le tendenze prevedono, almeno per la fall winter di quest'anno, look abbastanza semplici e lineari, ma questo allo stesso tempo strutturati, perché comunque c'è, come dicevo prima, c'è una materia proprio nella struttura del capello che deve essere enfatizzato quasi come se fossero dei tessuti, linearità e pulizia nelle pieghe. Quindi per parlare proprio di materia, abbiamo dei prodotti che accompagnano questa capacità, questa artigianalità? Assolutamente sì, abbiamo utilizzato Amy di Vella Professional, abbiamo utilizzato in alcune situazioni una mousse per dare proprio una consistenza più naturale, in altre situazioni degli air spray che ci permettono di fissare la texture, ma allo stesso tempo esprimere quello che era il concetto della naturalezza. Grazie a tutti!